La ciclabile è stata finalmente ritinteggiata di questo sgargante colore. Qui a sinistra si nota come era prima il manto completamente sbiadito. È stato ritinteggiato il manto della ciclabile che era ormai sbiadito, fino all'imbocco del modo sfido. Qui ancora devono continuare i lavori del facimento, ma concludiamo che tempo permettendo nei prossimi giorni verrà ottimato il tutto.